E salve a tutti e ben tornati in questo nuovissimo video oggi Oggi Siamo su Insurgency dopo praticamente 5 mesi Io non lo riaprivo proprio dall'ultimo video Ora, c'ho la sensibilità forse un po' troppo bassa E un po' troppo alta quando miro Rispetto a quando non miro Comunque Ovviamente vi ricordo che in descrizione trovate il link per il codice SCONTO G-Portal 5% su tutti i vostri acquisti E se non sapete che cos'è G-Portal sostanzialmente è un host di server Quindi potete farvi anche un vostro server di Insurgency Sandstorm Come ho fatto io Che l'ho praticamente dato alla community italiana di Insurgency E trovate pure il link del Discord in descrizione Dove minchia Dove minchia si sparano E niente Lo trovate in descrizione Praticamente ci organizzano o partite normali O anche 5v5 Comunque Entrate giù e Per qualsiasi cosa comunque Annunciano quello che vanno a fare Con il server Poi ha detto se è Mette le mod Eccetera eccetera Qui c'è 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 un cattivo Vabbè Ci ho provato Ci ho provato E comunque smisi Per chi comunque ha visto L'ultimo video di Insurgency Smisi di farli Proprio perché avevo problemi con la scheda video E mentre registravo Il gioco andava alla perfezione Solo che Maffanculo Solo che In Una volta registrato Satterava tutto quanto E quindi Ok devo sistemare un po' La sensibilità Perché è fastidioso Avere due sensibilità diverse Ho questa preso fuoco Usato per prendere fuoco con lui E adesso con la nuova scheda video Se Dio vuole Riesco di nuovo a registrare Senza avere problemi Quello è un nemico Oh oh Ma chi sparano? Devo sistemarmi la sensibilità amici Aspettate Ok forse è un po' troppo Ah Ok Credo che ci siamo con la sensibilità Let's go Let's go Vediamo se sono ancora capace di giocarci L'ho fatto? Sì l'ho fatto Ok Quello non amico Forco boia Madonna Ora mi voglio divertire un po' con Lucy Che la cosa più difficile Di riprendere a giocare ogni volta Dopo un bel po' di tempo E conoscere bene Un po' i punti dove sta la gente Oh Ma dai ma Quello Invisibile vestito così sopra le scale Andiamo a pigliare A allora amici Andiamo a pigliare A Let's go Con Wrecker Let's go Wrecker Uh Questa volta DMP7 Oh mio dio La sensibilità Guardate la differenza Ok Vaffanculo Credo fosse un nemico Non riuscivo a vedere bene il pallino Ricordate di questo La mia arma praticamente preferita Perché ci puoi Ammazzare chiunque Da qualsiasi distanza Bene è tornata Ah fa culo Quelle mitragliette piccoline Mappa troppo grande Per le mitragliette piccoline Uh Me l'aspettavo uno qua Uh Ci ho visto uno qui Bah bah Bastardo Ok Paura Si può fare di meglio Si può fare di meglio De cazzo Mi sono perso E mi sono dimenticato anche di togliere i tutorial Oh scusa Scusa amico Non avevo visto il pallino Beh Pare di nemici da questo lato Quello ruotola Meno uno Ok qua ci sono passi di nemici Ho visto Era qui Quanto sto Ok c'è ancora un po' di colpini In questo carico Via uno TACTICAL RELOA TACTICAL RELOA Forse è per questo che nel Menù di caricamento C'era scritto Portati Mutande E calzini puliti Sudi E ti cacchi addosso Raffineria Raffineria Ah già Dovevo togliere il tutorial Ok Dovrei averli tolti Let's go Let's go Friend C'è pure tigre Grande tigre Finito colpi qui Minchia Orca verda Vaffan Cucola Non ho proprio avuto Cioè vabbè Non so com'è possibile Che non ci sia schiantato Sia lui che il suo compagno Ok Ora Allora Qualcuno arriva da qui Qualcuno è sopra Eccolo Però c'è un altro Da qualche parte Amico Qualcuno arriva da fuori Nemici di là Uuu Quello è stato Daffanculo Per male C'ho pure Il puntatore laser Per riuscire a sparare Nel punto giusto Al momento giusto Ma i colpi Non ci vanno No Non la perderemo L'ho visto L'ho visto eh È morto Come lui Come lui Veloce Veloce Siamo pronti amici Let's go Irrussione Ah liberando Ok È un po' Passi Ok Sopra o sotto Sopra Fatto Fatto Sono su C Sono su C E io me ne scendo Di qui Senti pure Arrivo io Ok Visto Perché sono arrivato Io Bazzato tutti io Ok Ancora Per una persona Ce li ho A colpi A colpi Sto caricatore Non è morto Non è Mezzuna Ora sì È morto anche però Ma cazzo Vaffanculo C'era Non di là Uh Ehi Sono un coglione Io Sbammedi Porco boia Quante esplosioni Quanto c'ho Ok Forse Per una persona Lo gestisco bene Ok Ha Con la sparata Anche al compagno Ho visto È scomparso O l'ho ucciso No Ho fatto qualcosa Con la C Non voglio dare info Sbagliate ai miei Friends Ma come Minchia Si è rotto le gambe Quello Ok Molto Dici che si riesce Ad andare su C Senza farcela Prendere Senza morire Wow Mamma mia Che incursione Che incursione Dov'eri Bastardo Sei arrivato su Mentre ero girato Sì Ma va al gugolo Meno uno Sento fassi Da quest'altra parte Eccolo Sì Comparso È lì Sto rincorrendo Sto rincorrendo Tutti Finito i colpi Aspetta Aspetta Possiamo parlarne Ne possiamo parlare Quello è il mio compagno No No Finito i colpi Uno la No Ok Nevermind Vedo fantasmi Io Però Stiamo vincendo Possiamo prendere la B C'è un nemico Ok No Vedo il pallino Ok Oddio La grata del compagno Aia Ok Balo Let's go Let's fucking go Ricarico per sicurezza Visto le mie p7 Colpi non bastano mai Arr Mortacci De pippo Oh no 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 Però quello là su L'ho fatto Stiamo a far Macello Su Ci Vamo Vamo Easy Easy È della fine? Siamo arrivati alla fine? Quindi abbiamo vinto Ah 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 Dai non è andata male È stata più o meno Praticamente bilanciata Come con tutti gli altri Nessuno ha stampato Nessuno Comunque dai Abbiamo fatto queste due partitini Il nuovo videozzo di Insurgency Adesso posso continuare A sforrare video di Insurgency Visto che finalmente Non stattera la registrazione Quindi niente signorini Iniziate a giocarlo Questo video Giochino Su Su pc Perché Merita tanto Come dico sempre C'è bisogno di più giocatori E ricordatevi andare in descrizione Per il discord Della community Italiana Così avete anche il server Che Li ho procurato io Grazie sempre a gportal Quindi in descrizione anche gportal Seppure voi volete un vostro serverino Di insurgency E potete farci qualsiasi Cosa Mettere tutto quello che volete Anche le mod Quindi niente signori Noi ci si vede al prossimo video Spero vi sia piaciuto questo qui E niente Alla prossima Ciao 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 c'è 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 Ciao c'è